Questo progetto, l'Accademia di Belle Arti, svolge il ruolo proprio di giuria e di controllo dell'estetica dei progetti che saranno presentati. I progetti riguarderanno le scuole primarie che dovranno colorare, i ragazzi, gli studenti delle scuole primarie dovranno colorare le maglie dell'Aquila Rugby e quindi sarà interessante vedere anche come risponderanno i ragazzi, con quali colori, con quale rappresentazioni. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è un'istituzione nazionale estremamente attenta agli eventi del territorio, ecco perché siamo particolarmente integrati al comitato organizzatore l'Aquila Ovale di averci invitato a presenziare a questo progetto. Chiaramente è una scelta di studenti delle scuole primarie, quindi non saremo eccessivamente severi, tuttavia guarderemo con molto interesse la creatività di questi giovani artisti. Il criterio sarà sicuramente il segno, come il ragazzo svilupperà il disegno della maglia, dopo di questo chiaramente come accoppieranno i colori, come saranno effettivamente inseriti i colori all'interno del disegno del progetto della maglia stessa. Significa valorizzare il lavoro dei giovani, significa valorizzare il lavoro dei giovani nello sport e nell'arte.